Ciao a tutti, sono Pamela Guerinoni, faccio parte e sono la referente dello Spazio Giochi di Gorno. Lo Spazio Giochi rinasce in questa nuova sede e dopo due anni è condivisi nei locali della biblioteca. Rinasce con la voglia di tante mamme, basti vedere tutto quello che abbiamo fatto per abbellire i locali. Lo Spazio Giochi è un luogo per condividere il tempo con i nostri figli, aiutandoli ad instaurare le prime relazioni con i conetanei e a relazionarsi in uno spazio diverso da quello da casa. Qui i genitori trovano anche occasioni di incontro e confronto delle problematiche comuni e risposte ai piccoli problemi di ogni giorno. Attualmente quanti bambini frequenteranno questo Spazio Giochi? Dai 20 ai 30 bambini. E poi col tempo aumenteranno? Penso di sì anche se si alternano, di solito poi nelle occasioni dove facciamo delle feste tipo Santa Lucia, Carnevale o altre feste che ci inventiamo noi mamme, è logico che arrivano tutti i bambini che sono una sessantina. Questo Spazio Giochi come verrà poi gestito? È autogestito dalle mamme che aprono, chiudono lo Spazio Giochi, propongono le attività, puliscono i locali, insomma è tutto gestito dalle mamme. Ecco, allora è una grande soddisfazione anche per voi mamme avere quei bambini? Indubbiamente anche un luogo dove potersi trovare, visto il lungo inverno che c'è nelle nostre zone, un posto per trovarsi la sera e non lasciarsi in casa, magari davanti alla televisione. È un'occasione molto bella questa per l'inaugurazione dello Spazio Gioco di Gorno, proprio perché in questi anni si è su tutto il territorio puntato ad avere degli spazi per i bambini da 0 a 6 anni, con degli obiettivi che sono ben precisi, cioè quello di valorizzare il volontariato, soprattutto il volontariato delle mamme, che si ritrovano con i loro bambini, si confrontano e vedono i loro bambini crescere insieme agli altri. Questo è molto importante perché avere degli spazi condivisi permette la relazione, permette la socializzazione, permette di crescere come comunità insieme. Allora, come potete vedere, questo Spazio Gioco è veramente bello e grazie al lavoro di tutti i volontari che hanno collaborato, quindi le mamme, i nonni. C'è stato proprio un lavoro d'equip di tante persone. Sicuramente Pamela ha dato una mano non indifferente, per cui è giusto anche ringraziare tutti quelli che hanno collaborato. Grazie. Grazie.